Me l'ha chiesto oggi Io sono innamorato Spero che lui non lo faccia per business, così Giacomo Urtis conferma ad Agost pia l'indiscrezione che circola a Porto Cervo su un presunto matrimonio in programma l'anno prossimo tra il chirurgo dei vif e l'ex re dei paparazzi Giacomo Urtis aveva parlato del legame intimo con Fabrizio Corona già nell'intervista a Velve e lo stesso Corona aveva poi rilanciato pubblicando uno scambio bollente che dimostrava una certa confidenza Ora al rapporto così raccontato si aggiungerebbe addirittura la proposta di nozza Inoltre, come prova del suo legame con Corona, Urtis ha mandato ad Agost pia un video via WhatsApp dove si vedono entrambi sfrecciare il moto al grido di Amore mio video che, dalla descrizione, pare proprio quello pubblicato da Corona lo scorso 13 agosto su Instagram Attualmente, Corona risulta essere felicemente fidanzato con la modella Sara Barbieri e sulle dichiarazioni di Urtis, al momento, non ha detto nulla Quello che c'era tra me e Fabrizio era una cosa a parte Se c'è stato un rapporto d'amore fisico? Può essere che qualche volta ci fosse dell'intimità aveva ammesso Urtis a Francesca Fagnani E anche oggi, alla domanda diretta di Dagost pia su rapporti intimi, no comment, ha replicato il chirurgo David Un post condiviso da Fabrizio Corona Chiocciola a Fabrizio Corona Rea Un post condiviso da Fabrizio Corona Chiocciola a Fabrizio Corona Rea